Tra tante new entry, qualche punto fermo alla nuova consa a Ravenna ce l'ha. È il caso di Davide Saitta, il regista ideale nel gioco pensato da coach Bonitta per fare fronte alle tante difficoltà che l'inizio della nuova stagione porterà in dotte. Ci aspetto a un campionato lungo, duro, difficile perché ci sono 13 squadre, due retrocessioni. Il nostro obiettivo sarà, come diceva Bonitta, lavorare giorno per giorno, come diceva anche il presidente, per migliorarsi sempre, cercare di divertirci e divertire il pubblico e poi cercare quindi ogni partita di raccimolare punti per metterci più squadre possibili dietro le spalle. Davide seguirà da vicino la crescita dei tanti giovani che faranno parte dell'organico Ravennate. Il palleggiatore nativo di Catania non fa mistero di quali siano le aspettative in vista del prossimo campionato di Superlega. Sicuramente di migliorare le mie prestazioni rispetto all'anno scorso, di cui sono soddisfatto, se no non sarei qui. Cercare di apportare ancora di più il mio contributo di esperienza dall'alto della mia età rispetto ai giovincelli che ho attorno, ma sono sicuro che il gruppo è buono e può lavorare bene e quindi mi ispetto di dare il mio massimo come sempre.